Come sapete stiamo pre-registrando diversi video di parco giochi in modo da poterne portare altri anche quando la malità sarà disattivata Quest'oggi abbiamo deciso che mentre ormai quando uscirà questo video sarà già uscita la season 5 quindi teoricamente nuova mappa, novità eccetera eccetera Abbiamo deciso, ok, di creare una nostra città e di fare qualcosa di particolare Dato che per ora si sta parlando di piramidi, si parla di roba fighissima e raga spero che quando uscirà ci sarà davvero roba bellissima Noi abbiamo deciso di fare una città volante perché secondo me anche quello sarebbe figo Assolutamente Esiste in tanti videogiochi, esiste esempio su World of Warcraft e Dallara, insomma ce ne sono davvero in tantissimi videogiochi E abbiamo deciso di farla anche noi, andiamo abbastanza verso l'alto, piattaforma enorme tipo grande quanto tutto lago e lì costruiamo una città Allora fammi dare delle direttive, no facciamo altezza no massima perché altrimenti poi non possiamo fare palazzi Facciamo tipo 20 di altezza e poi iniziamo Più che altro se riusciamo copriamo tutto il lago a livello di grandezza perché così facciamo la città più grande e fluttuante del mondo Una metropoli Stef Esatto Ok, allora, prendo un pochettino di materiali Ho visto anche un lamettino lì in giro che potrebbe far comodo sinceramente per avere un po' di tutti i materiali Anche perché sarebbe carino fare palazzi di vari materiali Eh beh sì, di mattoni, eh non sarebbe male Magari la base di legno, i palazzi di mattone non sarebbe male Non per forza dobbiamo fare qualcosa di brutto, ok? Che io e te non siamo proprio i campioni del billing Ne abbiamo altri due magari Però gli altri due magari hanno più talento di noi E poi io voglio andare lì a prendere quel lama E riusciamo a fare l'ama carino Ecco qua che va a prendere l'ama Annette ha lasciato il personaggio a ballare ed è andata a pranzo Allora qui a livello, a me sembra basti fino a qui Eh, mi puoi dare un favore? Vuoi tornare da me e mettermi il trampolino? No Sai fa un sacco comodo secondo me Perché così posso andare lontanissimo a prendere, capisci? Per adesso iniziamo a creare un bel posto sostanzioso Lo smetti di fare, capito, queste cose un po' verticali così Inizia a creare una vera e propria piattaforma grande Eh sì, Steph, sto facendo una stoff Sto facendo un attimino il perimetro per poi, capito, coprire Mi hai fatto casca, perché ti ascolto? Perché ti ascolto? Mi hai fatto perdere tutti i materiali Cavolo che mi distrae, devi avere un buon ritmo per fare le cose veloci, Steph Non mi devi distrarre, ok? Povera Non mi devi rompere Povera Fer Comunque dall'alto inizia ad avere la sua figura, eh Lo so Ma dov'è che so cascata? Lo so che inizia ad avere la sua figura Tipo stavo facendo... Che zona stavo facendo? Ok, qua sono riuscito a tappare una zona Niente male Niente, niente male Cavolo, mi ricordo più Poi è davvero enorme, però, eh È davvero, davvero enorme Ok, facciamo così Facciamo così Ecco Facciamo così Facciamo così E mi sa che faccio la prima costruzione anche in ferro Dato che sono pieno zeppo di ferro Che poi sei voglia Cioè, se sei a voglia, tanto impegno E sei anche molto bravi a costruire Aggiungere anche sta roba Ok Potresti fare tipo la città Metti la piattaforma base Però la fai, metti tipo una riga in metallo Che sarebbe poi la strada Che collega tutti i palazzi Ma Ah Eh sì Bello, bello, bello però Molto figo Ok Ci vuole tanto impegno per quello Davvero tanto E vabbè, io comunque sto iniziando a fare i miei primi palazzini Sai Perché comunque così sale anche il morale Perché li vedi una forma E fai, ah dai No, certo Non è così lontana la costruzione E poi in realtà manca tantissimo tempo però Ah, ma devo fare tutto il giro per tornare L'importante è dare qualcosa all'occhio Perché ho dovuto recuperare tutti i miei mattinelli In mezzo al lago Ma devo fare tutto il giro Non tornerò mai più Stai tranquilla, va tutto bene Non tornerò mai più a Steph Allora, adesso vi faccio vedere il secondo palazzo creato da Steph Questo è un po' più bellino dell'altro secondo me Cioè, sono convinto che lo sia Poi mi direi tu cosa ne pensi Però che le scale bene Devono essere dei palazzi funzionali, Steph No Ah, no Fantasia Arte Sì, non ci vivrà E chi ci vive? Tu Da solo Sì Allora Sempre Ok No, vabbè, ci sta Molto astratti come palazzi Però ci sta Io pensavo dovessimo fare delle palazze Astratto è un po' gentile di dire che fa schifo Eh, più o meno Sono i termini che si usano nell'arte Quando una cosa non si comprende Si inventa un termine nuovo Non è vero, sto scherzando Ti dicevo Io pensavo dovessimo fare dei palazzi funzionali Tipo che tu vai Entri, sali le scale Delle finestre e delle stanze Ah, ok Capito Uh Qua però Steph Signori Incredibile Questo è carino Non l'ho ancora visto, Steph Cioè, io sto ancora facendo la base Guarda Ho creato una punta di tetto Eh, bravo Vero? Sei orgoglioso Tantissimo Non mi distrarrei più adesso E ora come scendo? Fai vedere Vabbè, è enorme, è gigante Facci delle finestre, Steph Guarda Questo è brutto Facci delle finestre Sì, è vero, è brutto Beh, pensa che poi Con le costruzioni La Epic Games Ci ha costruito Un granchio Una volpe Un lama Quindi pensa un po' E poi ci sono i nostri palazzi Vuole botte? Capisci No, no Ok Secondo me è un palazzotto Che ha il suo perché Ok Se sei felice tu stessa Siamo felici tu Sì, io sono contentissimo Però tu non lo sei E non lo nascondi neanche No, vabbè Non è una novità Che non siamo bravi Nelle costruzioni, eh Cioè Parla per te È una cosa un po' Un dato di fatto, insomma Vuoi litigare? No, non voglio litigare Ma no È zitto Allora, vado qua E raga, mi sa che facciamo un taglio Vi faccio giusto vedere Oh, cavolo Dal basso È una figata Ma anche dall'alto Se poi ti butti E risali scendendo È bellissimo Eh, dicevo Facciamo un taglio Vi facciamo vedere Tra una decina di minuti I progressi Perché così iniziate A essere stupiti anche voi Perché diventerà Una figata pazzesca Benvenuti A Consolini Landia Allora, raga Devo, abbiamo fatto Una pesteria Troppo grande Abbiamo stato dato Troppo grande Io l'avevo detto Guardate Tipo Da qua Che sono parecchio in alto È piena zeppa di costruzioni È una roba Completamente enorme Stiamo cercando di finire Di fare un altro po' di roba Perché Raga Abbiamo esagerato Le costruzioni Le costruzioni più stravaganti Sono sempre mie Perché Ho una forma d'arte Un po' diversa dagli altri Oddio Oddio Steph Questa volta Secondo me Anche gli altri Ne ho dato spettacoli Eh sì Ho notato A distanza Ho visto cose Abbastanza particolari Allora Facciamo una roba del genere Cos'è Non lo so Raga Non dovete neanche chiedere Perché qua Si sta improvvisando Ovviamente Da un'ora costruendo Ormai non ci capisco più nulla Ok Questo è lo spacco Perché ho fatto questo Infatti non serviva nulla Basta Va a fare Un bel modifai qua Opla Opla Ok Io sono partita anche con le migliori intenzioni Ma poi Cioè È tosta Cioè Una città Non la puoi fare dal nulla Mancano comunque 13 minuti Quindi stiamo finendo anche il tempo Della modalità parco giochi Già Il che la dice tutta Secondo me Il che la dice tutta Sì L'abbiamo visto troppo in grande Cioè Troppe cose Mastodonti Che mettiamola così Bisognava fare appunto il paesino Come avevo detto io Oh Che non sempre dire Come avevo detto io Come avevo detto io Stiamo facendo un qualcosa di enorme Almeno è figo Ok No certo Sarebbe stato più bello Se l'avessimo completato Ecco L'ha detto Lo stiamo pensando tutti Dai no Però è carina Perché comunque Mi sono concentrata Su una parte della città Che era già abbastanza costruita Quindi ho continuato a costruirla parecchio E secondo me Sta uscendo carina Per dare almeno il senso Un minimo 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 di città Qua facciamo Grattacelo Enorme Andiamo un sacco in alto Ok Allora Questa è una roba Proprio da visionari Quindi è una scicchifezza Guardate Che stai combinando? No Mi devi prendere Modify di questa Esatto Grazie mille Ok Qua ho fatto proprio una roba Orripilante Ok No C'è più tempo C'è poco tempo Però cavolo Stai un sacco in alto Ultimo palazzo Comunque lì in fondo I pinnacoli ci stanno mettendo Perché questa zona Prego Prego Allora Ok Qui non è male Secondo me abbiamo fatto un lavorone Secondo me Dai Contendo che appunto Hai solo un'ora a disposizione Vuoi vedere la mia Questa cosa è la costruzione Che vedo più fiero Ah l'hai fatta tu La scalinata verso il paradiso Ora prima non ho detto niente Per non far rimanere male nessuno Ma chi è che ha fatto quella roba No 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 Ma senti senti Praticamente Sento Hai capito? Ah ok Tu sali verso il paradiso Ok Letteralmente Esatto Esatto Tu sali 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 E poi qua c'è la trappa Guarda Steph comunque Questa parte non è male Te l'ho detto Sembra una città Ma cioè Secondo me abbiamo fatto un lavorone Anche secondo me Poi ti guardi là Ovviamente una parte meno popolata Ancora in costruzione E ci sta Secondo me è carina dai Piano piano Comunque quella lì è una villona incredibile Sì Quella è davvero gigantesca È fighissima Da ricconi quella Esatto E questo Questo sembra tipo un albergo Questo qua Sì Sì Comunque abbiamo fatto Parco Consolini Questa qua è Consolini in Andia È anche difficile da dire È anche difficile da dire Dillo veloce Sospese in area Che è una figata pazzesca Direi che la molliamo così Anche perché mancano 7 minuti Poi c'è la zona Non facciamo più in tempo A fare nulla di carino Avrebbe soltanto qualcosa Fatta di fretta Che ci starebbe malissimo Le piramidi sono mie Vi do un pochettino di curiosità E quei porti ci sono miei Poi quella torre altissima Fatta sempre di blocchi diversi È mia Stai facendo vedere solo le cose E tu è qua stai Tu vorresti in mio Allora ok Più o meno Sì questo qua è di uno Forse l'ha fatto Duke Di Duke Perché Nat era a pranzo Esatto Esatto Questo qua gigante di ferro è mia Il portaforte è mio vabbè Che l'ho tirato a caso Un tocco in più No ma comunque abbiamo fatto Un bel po' di roba Quei porti ci sono lì di ferro E lì in fondo Il mio edificio è più carino Purtroppo a questo lato Non si vede Però è davvero carino È mattoni ed è molto bellino In ogni caso A me piace questo di mio Questo col terrazzino Quando ancora ero impegnato A fare tutte le finestre Tutti i piani fatti bene Complimenti Grazie Qua sotto compariranno altri video Iscriviti al canale Cliccate la campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao